In nomine Patris et Filii et Spiritus Santi, Amen. Laudetur Iesus Christus, Semper Laudetur, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Continua la lettura dell'Imitazione di Cristo, Libro Secondo, Capo Secondo, dell'umile Sommessione. Non badare troppo chi ti sia favorevole o contrario, ma questo procura, che il Dio sia teco in ogni cosa che fai. Abbi una buona coscienza e Dio ti proteggerà, poiché a colui che Dio vuole aiutare non potrà nuocere la malvagità di nessuno. Se tu sai tacere e soffrire, vedrai senza dubbio l'aiuto del Signore. Egli conosce il tempo ed il modo di liberarti, e perciò tu devi abbandonarti a Lui. Sta a Dio l'aiutare e liberare da ogni confusione. E' sovente assai utile per conservarci meglio nell'umiltà, che gli altri conoscano e rimproverino i nostri difetti. Quando l'uomo si umilia per le proprie mancanze, placa facilmente gli altri, ed i leggeri soddisfa coloro che sono irritati grati contro di Lui. Il Dio protegge l'umile e lo libera, ama l'umile e lo consola. All'umile benignamente si avvicina, all'umile comparte grandi grazie, e dopo l'avvilimento lo solleva alla gloria. All'umile rivela i suoi segreti, e da sé dolcemente lo trae e lo invita. L'umile, quando riceve confusione, si tiene facilmente in pace, perché si riposa in Dio, e non nel mondo. Non credere di aver fatto alcun profitto, se non ti senti inferiore a tutti. Capo terzo dell'uomo buono e pacifico Tieni prima in pace te stesso, e potrai pacificare gli altri. Fa maggior bene un uomo pacifico che uno scienziato. Un uomo appassionato converte in male perfino il bene, e facilmente crede al male. L'uomo buono e pacifico rivolge al bene ogni cosa. Colui che si tiene in pace non sospetta di alcuno. Chi per contro è malcontento e turbato, è agitato da vari sospetti. Non è quieto egli, e non lascia tranquilli gli altri. Dice spesso ciò che non dovrebbe dire, e trascura ciò che piuttosto dovrebbe fare. Si occupa di ciò che debbono fare gli altri, e trascura ciò che deve fare egli stesso. Sì, dunque prima sollecito di te, ed allora potrai giustamente essere sollecito anche del prossimo tuo. Tu sai benissimo scusare e colorire come ti conviene i fatti tuoi, ma le scuse degli altri non vuoi ricevere. Sarebbe assai più giusto che accusassi te e che scusassi il tuo fratello. Se vuoi essere sopportato, sopporta gli altri. Vedi quanto sei ancora lontano dalla vera carità ed umiltà, la quale non sa adirarsi né sdegnarsi con nessuno, fuorché con se stessa. Non è gran cosa tenersi bene coi buoni e coi mansueti, poiché questo piace naturalmente a tutti, e ciascuno sta a volentieri in pace con quelli che sentono come lui e li ama di preferenza. Ma poter vivere in pace con gli uomini duri e perversi o indisciplinati o contrari a noi è una grande grazia e cosa assai lodevole e virile. Va di quelli che tengono in pace se stessi e stanno in pace anche con gli altri, e va di quelli che ne hanno pace essi né lasciano avere pace gli altri. Sono gravi agli altri, ma sempre più gravi a se stessi. E va di quelli che tengono in pace se stessi e procurano di ricondurre alla pace anche gli altri. Però tutta la nostra pace in questa misera vita è piuttosto da riporsi nel soffrire umilmente che nel non sentire cose contrarie alla natura. Chi meglio sa patire avrà pace maggiore. Egli è vincitore di sé, padrone del mondo, amico di Cristo ed erede del cielo. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur, in nomine Patris et Fili e Spiritus Santi, a.